Telemontecronio trasmetterà domani mattina in diretta la Santa Messa celebrata da Fran Michele Barone nella Chiesa dei Cappuccini, un servizio che riteniamo utile per la collettività, che ci è stato sollecitato dai frati Cappuccini che già da settimane si erano adoperati per garantire la messa in streaming. La diretta televisiva raggiunge ovviamente un'utenza più vasta, ragion per cui abbiamo deciso di assicurare la diretta televisiva della celebrazione della Santa Messa ogni domenica. L'appuntamento domani mattina è alle ore 11 quando inizierà la celebrazione che potrete seguire anche sui nostri canali social Facebook, Youtube e sul sito internet di Telemontecronio. La Chiesa Grigentina ai tempi del Covid-19 non si ferma, nonostante la chiusura delle chiese e la sospensione delle regolari attività, sono numerose le attenzioni che i parroci e le caritas parrocchiali continuano a rivolgere ai più fragili. Anche la chiesa ovviamente sta reinventando le modalità con le quali essere vicine ai fedeli e a quanti sono in condizioni di bisogno. Per venire incontro alle esigenze delle parrocchie impegnate nel sostegno alimentare, che in questo periodo sono in grave difficoltà a causa della sospensione delle attività pastorali e liturgiche, la Caritas Diocesana di Agrigento ha disposto un contributo economico per l'acquisto di generi alimentari in favore delle caritas parrocchiali che ne hanno fatto richiesta. La Chiesa Grigentina con l'arcivesco Francesco Montenegro s'enoltre portando avanti da giorni la raccolta fondi denominata Diamoci una mano, emergenza Covid-19, per supportare gli ospedali della provincia nell'acquisto di attrezzature e presidi sanitari da destinare ai reparti di terapia intensiva. La campagna è aperta a tutti, le somme potranno essere versate sul conto corrente bancario di Banca Intesa San Paolo, intestato ad Arcidiocesi di Agrigento. A supporto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Agrigento, dai fondi 8x1000 destinati alla Chiesa Cattolica, è stata inoltre disposta una donazione di 30.000 euro per l'acquisto di presidi sanitari e strumentazioni indispensabili. Chiesa Grigentina che rinnova l'appello a fare molta attenzione, limitando al massimo gli spostamenti e rispettando tutte le prescrizioni in vigore.